Il medico legale ha accertato lo sfondamento cranico contusivo nel primo referto subito dopo la tragedia avvenuta nella tarda serata di domenica 4 agosto sulla complanare che collega il pilone a Torre Canne. Allo stesso medico legale Domenico Urso, la PM Livia Orlando in mattinata ha conferito incarico per l'autopsia, passaggio necessario per accertare la causa della morte di Andrea Catamerò, il 25enne di San Vito dei Normanni, travolto in auto da Marco Mola, 26 di Pezzi di Greco e la dinamica dell'incidente. Il 26enne è ristretto nel carcere di Brindisi con l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'uso di droghe e dalla fuga. Rintracciato qualche ora dopo l'investimento mortale dagli agenti del commissariato di Ustuni diretti da Michele Marinelli, è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. La GIP Vilma Gilli, nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dopo aver convalidato l'arresto, ha sottolineato che l'incidente mortale è di peso dalla condotta imprudente e contraria alle norme del codice della strada posta in essere dall'indagato. Elementi obiettivi costituiti dai rilievi e dalle testimonianze. Le condizioni del luogo e della strada, scritto la GIP, imponevano una condotta di guida più diligente e attenta, tenuto conto del fatto che era notte, che la strada era priva o scarsamente illuminata, che c'erano auto parcheggiate al lato della carreggiata e pedoni. Peraltro, si legge nel provvedimento, lo stesso indagato ha ammesso di essere stato consapevole dell'esistenza di queste condizioni quando ha rilasciato dichiarazioni spontanee ai poliziotti e in occasione dell'udienza di convalida. Il prossimo accertamento, come spiegato dalla GIP, sarà quello relativo alla velocità. Su quel tratto di strada il limite è di 50 km l'ora, mentre l'indagato, stando a quanto emerso fino ad ora dalle indagini, procedeva a forte velocità non solo perché così hanno riferito i testimoni, ma perché vi è stata una proiezione del corpo della vittima di circa 11 metri oltre il punto di impatto, in assenza di segni di frenata. L'auto, secondo questa ricostruzione, è piombata sul 25enne che stava camminando sul bordo destro in fila indiana con i suoi amici. Nei prossimi giorni i difensori, Pasquale Di Natale e Giovanni Caroli, presenteranno ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere l'attenuazione della misura. Secondo i penalisti non sussiste il pericolo di reiterazione del reato perché lì indagato è privo della patente che gli è stata ritirata nell'immediatezza dei fatti e dell'auto posta sotto sequestro.